Presento lo speaker di oggi, il dottor Marco Lobardi, nato a Genova nel 1952, residente a Genova, sposato con un figlio, sport preferito, nuoto in mare. Quella? Istruzione, laurea in fisica presso l'Università di Genova. Quanto riguarda il lavoro, diciamo, si è dedicato al settore informatica. Per nove anni ha fatto ricerca e sviluppo di software di base, kernel di sistemi operativi real-time, protocolli di comunicazione per reti locali, due brevetti, a Genova nel gruppo Ansaldo e poi EsaControl. Dodici anni li ha passati presso la Digital Equipment Corporation. per quanto riguarda l'attività marketing di prodotto per applicazioni real-time. Poi ha fatto ulteriori cinque anni nella Compact Computer, vendita e servizi e sviluppo business nel mercato dei media. nove anni alla Capiule Packard, coordinamento offerto di outsourcing informatico e di business continuity e disaster recovery per data center. Attivismo, per cui noi lo conosciamo certamente meglio, formazione Summer Course Club of Rome, nel 2017, per i docenti Ugo Bardi, Jorgen Renders, Mathis Wagner, Kate Rathwort, Kate Pickett, Katrine Trackback e Chandran Nair. Cinque anni dal 2019, questa appunto è l'attività per cui noi l'abbiamo conosciuto, Friday for Future, Genova Global Strike, supporto scientifico per la comunicazione e l'invio di osservazioni e valutazioni ambientali. Il PUC, il PUMS, il PAESC, depositi chimici, quindi citiamo tutte le ultime problematiche di Genova, la DIGA, il tunnel supportuale, lo Sky Metro, eccetera. Supporta la comunicazione social di Friday for Future Genova, Facebook, Blog, Wordpress, Whatsapp, eccetera. Dall'autunno del 2022 ne è costituto Reggio Emilia Genova e fa parte del Consiglio Direttivo. Prego, illustraci le CCS, che non so se tutti conoscono cosa sia, la cattura e il sequestro della CO2, però Marco Lobardi ce lo spiegherà meglio. Effettuerà una serie di domande e gestirà la conversazione il dottor Federico Valerio, che conosciamo praticamente tutti, ex responsabile del laboratorio chimico dell'Ist, chimico ambientale dell'Ist, uno dei fondatori di Ecoistituto e persona, direi, nota a livello nazionale e internazionale. Prego. Bene Marco, allora se vuoi cominciare a raccontarci cosa ha questo del CCS, prego a te. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo del CCS, ma prima di arrivare al punto specifico, che significa Carbon Capture and Storage, quindi giustamente cattura del carbonio e immagazzinamento, facciamo magari un piccolo excursus su perché ne parliamo, perché siamo in una crisi climatica. Cosa è questo carbonio? Magari se lo spieghi, perché penso che poi il tuo punto sia questo. Di che carbonio stiamo parlando? Stiamo parlando del carbonio che noi, umani, in modo innaturale, stiamo emettendo nell'atmosfera terrestre, perché abbiamo trovato comodo utilizzare i carburanti fossili, che sono una stupenda fonte energetica, molto concentrata, molto facile da utilizzare e che ci fornisce un mucchio di energia. Ci siamo drogati di questa energia a basso costo di facile utilizzo e quindi contemporaneamente, mentre stiamo utilizzando questa energia strepitosa, ci siamo anche riprodotti sul pianeta Terra e quindi abbiamo iniziato a consumare sempre più energia ed emettere sempre più carbonio fossile nell'atmosfera. Parliamo di questo carbonio che sta iniziando a produrre dei grossi guai e se non faremo qualcosa ne produrrà ancora peggiori. Comunque come l'idea carbonica, no? Perché il problema tutti ne stanno parlando. Quindi il problema di oggi che abbiamo, il carbonio di cui stiamo parlando, il carbonio presente nell'idea carbonica in atmosfera che tu, come hai già accennato, qualche problema ce lo sta creando, vero? Sì, esattamente. Ci sta creando questi problemi. Faccio un attimo sharing dello schermo. Questi problemi perché l'atmosfera si sta scaldando a causa di questo gas, che è un gas clima alterante, perché fa sostanzialmente da effetto serra. Il sole ci manda tutta l'energia di cui abbiamo bisogno, soltanto che naturalmente senza il nostro effetto questa energia servirebbe a scaldare il mondo e poi una parte consistente di questa energia sarebbe rimandata nel vuoto dello spazio. quello che noi facciamo emettendo CO2 è che incrementiamo la quantità di energia che noi intrappoliamo all'interno dell'atmosfera. Si chiama effetto serra proprio perché fa come una serra. In una serra noi mettiamo un vetro perché lascia passare i raggi solari e poi intrappoli quelli che sono gli infrarossi e quindi che scaldano l'atmosfera all'interno della serra nella quale possiamo coltivare dei vegetali anche quando fuori la temperatura sarebbe troppo fredda per permetterlo in modo naturale. Ecco, noi stiamo facendo lo stesso effetto nella nostra atmosfera però questo riscaldamento dell'atmosfera terrestre sta diventando eccessivo e quindi stiamo andando verso dei disastri notevoli. Di quanto stiamo crescendo da un punto di vista di energia catturata e quindi di temperatura sono cose che dipendono dalla quantità della CO2 che noi abbiamo in atmosfera. Come facciamo a sapere quant'è? È perché le misuriamo. Noi siamo in grado, vediamo se riesco a mandare avanti, abbiamo iniziato a misurare la quantità di CO2 che noi abbiamo nell'atmosfera la quantità, diciamo, più riportata nel mondo è quella misurata nell'Eauai in un posto che effettivamente è sperduto dal mondo all'interno dell'Oceano Pacifico su questo vulcano bellissimo dell'isola Mauna Loa e dal 1958 in questa postazione meteorologica vengono misurate le quantità di CO2 e di metano. Abbiamo quindi una lunga serie di misurazioni che se vengono riportate in grafico fanno vedere come la quantità di CO2 continua inesorabilmente e molto velocemente a crescere. La quantità di misura è questo magico ppm che viene detto parti per milione cioè sul Mauna Loa nel 1958 su un milione di molecole meno di 320 erano di anidride carbonica. Via via nel tempo questo numero è cresciuto e adesso siamo arrivati ad averne 425 molecole su un milione che sono presenti sul vulcano. Sono tante sono tantissime. Quattro parti per milione l'anno scorso c'è stato questo aumento da un anno all'altro c'è questo aumento di circa quattro parti per milione. E continua ad aumentare appunto perché continuiamo a bruciare carburanti fossili e non tutti ci credono ma comunque non tutti ci credono ma fanno male perché in realtà perché in realtà se uno va guardando la parte destra della della slide ci sono due zone una rossa e una azzurra. Quella azzurra sarebbe come simulando gli effetti naturali normali quindi le variazioni che ci sono nell'orbita terrestre le variazioni che ci sono nei cicli solari diciamo tutto l'insieme di cose naturali che noi siamo in grado di non solo misurare ma abbiamo anche diciamo delle leggi fisiche che ce le spiegano dovremmo essere all'interno della la quantità di CO2 dovrebbe essere all'interno della fascia azzurra invece non ci troviamo qui ma ci troviamo ahimè nella zona rossa che riguarda la parte in cui se noi aggiungiamo la modellizzazione di quello che succede con tutta quanta la CO2 emessa dagli uomini ci troviamo in quella sopra e come si vede questa CO2 è responsabile di un innalzamento anche delle temperature che è il numerino riportato sulla sinistra nel grafico sulla parte sinistra della slide abbiamo collegato le misurazioni di CO2 prese dal vulcano Mauna Loa con tutte le altre misurazioni prese dalla CO2 all'interno dei carotaggi dei ghiacci dell'Antartide e anche dei ghiacci di tutti i ghiacciai che ci sono sparsi nel mondo questo perché la neve cadendo schiaccia delle particelle di aria che quindi contengono in percentuali come abbiamo visto di parti per milione la CO2 e andando a fare dei carotaggi andando ad identificare gli anni in cui la neve è caduta noi abbiamo la possibilità di risalire all'indietro nel tempo e risalire per esempio fino agli anni 1760 precedenti che sono quelli dell'inizio dell'era industriale umana in cui abbiamo iniziato a bruciare inizialmente del carbone poi abbiamo iniziato a bruciare il petrolio la benzina poi abbiamo aggiunto il gas e via via contemporaneamente ne abbiamo bruciato sempre di più perché stavamo anche crescendo come quantità di persone su questo mondo io sono nato nel 52 come è stato detto ed eravamo meno di 3 miliardi di persone sulla terra attualmente siamo siamo in 8 miliardi quindi il consumo dei carburanti fossili è cresciuto tantissimo e anche la quantità di CO2 che è stata emessa e quindi questo ci porta ad avere questa quantità elevatissima di CO2 in atmosfera direi che questo dà una una immagine di quanto di quanto cresce il ciclo del carbonio quindi questa anidride carbonica che noi troviamo in naturosfera come è variata in precedenza c'era soltanto un ciclo naturale che è quello sulla parte sinistra della della slide quindi le cose non so si vede il mio cursore o non si vede? il puntatore? si vede ok quindi la CO2 nell'atmosfera viene catturata dagli alberi da tutti i vegetali che con la fotosintesi costruiscono se stessi costruiscono i tronchi i rami eccetera e questo accrescimento ha una una base annuale in cui vengono create le foglie vengono accresciuti i tronchi con gli anelli che via si allargano quelli che possiamo anche vedere quando tagliamo i tronchi a metà ed è anche questo un metodo empirico di valutazione di quanto quanta CO2 ci fosse in un anno perché a seconda del clima un albero può crescere di più o di meno e sul lato sinistro c'è un altro cosiddetto sink un altro serbatoio in cui finisce la CO2 e il mare il mare tutti quanti gli oceani sono lievemente basici e quindi hanno la possibilità di catturare la CO2 dall'atmosfera e poi creare del carbonato di calcio o delle altre cose che precipitano su il fondale marino queste sono sostanzialmente le due le due fonti di assorbimento maggiore la vegetazione e il mare ci sono invece le parti di emissione da un lato ci sono gli incendi delle foreste che quindi bruciando il carbonio dei tronchi lo rilasciano nelle atmosfere e dall'altro ci sono gli animali che respirano o anche la decomposizione di tutti quanti gli oggetti biologici quindi delle carcasse degli animali ma anche di tronchi che vanno o di oggetti che vanno nel nel terreno ci sono dei batteri dei compositori e quindi questo questo processo rilascia e produce la anidride carbonica che era stata acquisita all'interno del dei corpi per libri insomma no? quindi è un ciclo naturale a questo ciclo naturale che quindi fino al 1700 ha fatto sì che la CO2 restasse al di sotto di ben al di sotto di 300 parti per milione intorno al 270 noi abbiamo iniziato a modificarlo perché andando a prendere carbone andando a prendere petrolio e bruciando questi oggetti per ottenere energia abbiamo scombinato questo ciclo naturale nel quale noi come tutti gli animali viventi sulla terra di quale eravamo parte e quindi abbiamo modificato la quantità di CO2 abbiamo fatto questo effetto serra e quindi abbiamo modificato le temperature sulla terra questo per esempio fa vedere come a Genova siano cambiate le temperature dal 1850 ad oggi in questo grafico viene preso come bianco la fascia media intermedia tra giusto il 1860 e il 2015 mentre invece sono in azzurro e blu gli anni questi qui sono corrispondenti i colori sono dati in corrispondenza della media temperatura annuale in blu sono gli anni freddi in in rosso via via rosso più cupo quelli più caldi ed è lampante vedere come siamo passati da periodi più freschi con alternanze anche tra un anno e l'altro perché quando si parla di clima non è il meteo non è che è sempre in un'unica direzione però le variazioni via via diventano sempre più chiaramente verso anni caldi e sempre più caldi qui non sono riportati ma gli ultimi tre anni sono stati i tre anni più caldi che ci sono stati Marco scusa da sottolineare queste sono misure perché in 1860 c'erano i termometri assolutamente meteo appunto anche a Genova che hanno misurato le temperature reali quindi sono misure a tutti gli effetti anche misure precise quindi questo che vediamo con questi colori segnala come appunto in base a misure quindi non sono ipotesi o modelli o che effettivamente anche a Genova la sensazione che il clima stia cambiando e che le temperature sia sempre più calde più elevate effettivamente è una conferma questo però non solo a Genova immagino questo non è solo a Genova perché se passando da Genova a il mondo un salto bello lungo uno riesce a fare come sono le medie delle temperature a questo punto vai a fare le medie su tutto quanto il globo ad aiutarci in questo caso ci sono non solo le stazioni meteorologiche ma ormai ci sono anche una rete di satelliti meteorologici notevole e quindi e sono anni e anni che ci sono quindi andando a vedere queste misure e facendo le medie perché poi tipicamente vanno misurate vengono misurate e conteggiate le temperature dell'atmosfera la temperatura del mare e le temperature dei terreni di solito vengono date queste tre cose differenti e andando a mescolarle opportunamente si vede qual è il riscaldamento medio di tutto quanto il pianeta Terra noi già adesso rispetto all'epoca preindustriale abbiamo avuto un innalzamento della temperatura appunto medio di oltre di 1,3 gradi centigradi che possono sembrare pochi ma invece sono tanti perché poi ci sono tutte le variazioni giornaliere stagionali a seconda della latitudine 1,3 gradi sono tanti perché significa che all'interno del mondo l'energia catturata è molto elevata il fatto di avere un mondo con un'energia più elevata significa che certi fenomeni naturali tipo le piogge le mareggiate hanno una intensità energetica molto maggiore l'energia media degli uragani sulla terra negli ultimi anni è cresciuta rispetto a quella che poteva essere una cinquantina di anni fa ed il numero di uragani di classe quinta è cresciuto identicamente il numero di mareggiate importanti sono cresciute il mare si sta lievemente ma inesorabilmente alzando e in questo momento non abbiamo ancora avuto dei grossi sfracceghi belli tipo il collasso dei ghiacciai della Groenelandia o cose ancora peggiori dall'Antartide però ci sono via via passino dopo passetto effetti che iniziamo a notare e che ci portano verso disastri sempre maggiori perché perché l'energia all'interno del mondo sta crescendo il riscaldamento globale 1,5 gradi in più nel 2030 è la domanda di questa slide perché perché si vorrebbe invece cercare di evitare di arrivare a questo limite perché a questa temperatura i disastri nel mondo iniziano già ad essere molto di più quando ci sono disastri nel mondo le persone che sono soggette a questi disastri tendono se possibile a fuggirsene ad andarsene se possibile perché per esempio con l'inalzamento dei mari ci sono alcune isole alcuni atolli nel Pacifico che già adesso fanno fatica a resistere e quindi quello che si vorrebbe fare è di cercare di contenere l'inalzamento della temperatura il fatto è che tutta la CO2 che noi stiamo emettendo ha un ciclo di vita proprio molto lungo cioè i tempi per poterla catturare naturalmente o perché se ne esca dall'atmosfera terrestre o perché sia catturata appunto da vegetazione o altre cose in modo naturale ha dei tempi molto molto lunghi quindi significa che se noi continuiamo ad emetterne ci sarà una un'inerzia che ci conduce ad andare inesorabilmente verso situazioni a temperatura maggiore e questo è un piccolo problema se naturalmente ci siamo accorti di questa cosa come umani sulla terra per primi gli scienziati hanno alzato la bandierina dicendo ma non non dovremmo fare qualcosa è una cosa grave via via è sempre più grave ci sono stati appelli a un certo punto l'ONU si è accorta che qualcosa non non andava qui posso anche smettere di condividere ho visto la situazione e da capire vabbè abbiamo capito che c'è un problema a livello mondiale secondo te abbiamo capito che c'è un problema a livello mondiale tant'è vero che l'ONU che rappresenta tutti quanti i governi mondiali ha ha deciso di ha deciso di fare qualche cosa ha da un lato istituito un panel di scienziati che si chiama IPCC sono scienziati nominati dai governi quando uno dice ah c'è il report dell'IPCC che dice questa cosa la gente non deve pensare cioè sono quattro scappati di casa gente con l'orecchino d'oro all'orecchio dei fricchettoni che in realtà non sanno di cosa sono delle persone che sono state nominate dai governi stessi anche noi in Italia ce ne abbiamo non è tanto sulle valizioni del clima perché poi le implicazioni dovute a fatto dell'ometrio climatico delle temperature ha a che fare con tante altre variabili con altre situazioni quindi c'è gente che si occupa anche di tanti altri settori e tutte queste varie esperienze poi stanno andando tutti nello stesso senso stanno andando tutte nello stesso senso sono confermate l'una con l'altra quindi la glaciologia la geologia le scienze naturali lo studio degli ecosistemi tutti quanti insieme ci stanno dicendo che è un grosso problema mondiale e che dobbiamo cercare di risolverlo abbiamo capito in che modo lo abbiamo creato quindi bruciando carburanti fossili e mettendoli nell'atmosfera e a questo punto dovremmo anche fare qualche cosa l'ONU oltre che a fare questo panel di scienziati ha anche deciso di di avere degli degli incontri annuali che sono chiamati COP conferenza delle parti hanno iniziato nel 1995 a fare questa cosa e poi via via anno dopo anno ci sono questi incontri governativi quindi stanno parlando di ministri che vanno lì di capi di governo ad incontrarsi per capire cosa vogliamo fare nel 1997 a Kyoto è stato stilato un primo documento importante si chiama il protocollo di Kyoto è stato il primo perché ha identificato degli impegni per la riduzione della CO2 che derivano da riduzioni da parte dei paesi sviluppati nell'ultima scusami nell'ultima conferenza che si è decisa nell'ultima conferenza che è quella di Dubai fatta l'anno scorso nel 23 a casa dei maggiori produttori di carburanti fossili guidata da un emiro che è il ministro dell'energia dello stato ospitante è stato deciso di avere come obiettivo quello di limitare l'innalzamento delle temperature a 1,5 gradi centigradi che è quello che vedevamo dall'ultima slide come una cosa nella quale rischiamo di andare a sbattere molto rapidamente per cui i tempi sono veramente ristretti lo dico lo dico perché nella cop 21 di Parigi quella che spesso viene citata per il Paris Agreement in cui era stato deciso che l'obiettivo era di stare al di sotto dei due gradi centigradi in realtà sarebbe una situazione in cui il mondo si trova si troverebbe ad avere dei disagi notevoli e sarebbe molto bene cercare di stare al di sotto e nella copp di Dubai è stato dato l'1,5 gradi centigradi come come livello in cui cercare di restare Già anche a Glasgow a Glasgow era stato io ero diciamo ero sia a Parigi che a Glasgow ma la differenza secondo me tra Parigi e Glasgow è che Parigi non era vincolante mentre per gli stati che aderivano a Glasgow sotto un grado e mezzo era vincolante secondo me questo sarebbe stato un aspetto importante il vincolo giù di assolutamente assolutamente e a Glasgow se ricordo bene era stato anche istituito un mercato globale del carbonio che fino a quel punto non c'era non era valido per tutto quanto il mondo era soltanto per alcune nazioni che volessero implementarlo e quindi quello lì sicuramente per Glasgow era stato un bel passo avanti però in quest'ultimo la storia della cattura del carbonio quindi l'argomento ecco deriva dal fatto che in quest'ultima COP di Dubai dell'anno scorso tra le varie azioni da fare oltre a quello di triplicare le energie rinnovabili entro il 2030 che anche questo è un grosso passo avanti e anche ad aver stabilito finalmente con colpevole ritardo che si voglia avere un graduale abbandono di tutti i carburanti fossili una frase che a livello con importanza mondiale non era mai mai stata detta quindi è stata detta proprio in casa di questi signori che sono tra i maggiori produttori di carburanti fossili è stato anche detto che il CCS quindi la tecnologia Carbon Capture and Storage che significa cattura del carbonio ed immagazzinamento è una tecnologia da sviluppare e da da perseguire questo può essere questo sicuramente è una decisione importante è una decisione giusta tanti dicono di no come anche altre cose per esempio nel questo Cop di Dubai è stato detto che il gas è stato incluso tra i carburanti a basso impatto oddio è una questione di lasciami dire più politica che non scientifica d'altronde le cop sono fatte tra i governi quindi non è detto che sia un'ottima ragione per esempio parlando di quanto sia una cosa furba per seguire questo CCS il direttore mondiale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia quindi un signore che di energia e di queste cose ne capisce ha detto testualmente l'uso intenso della CCS per i scenari di decarbonizzazione è una fantasia quindi non è una voce piccola uno studio dell'Università di Oxford recente giusto fatto successivamente a questa cosa è andato a vedere degli aspetti economici e hanno identificato il fatto che una transizione basata sull'uso massiccio della CO2 fino al 2050 quindi con tecnologie di cattura e insufflaggio di questa costerebbe rispetto una transizione focalizzata solamente invece su rinnovabili elettrificazione ed efficienze energetiche costerebbe di più in questi 25 anni 32 mila miliardi di dollari quindi anche da un punto di vista economico non è che sia una gran furbata ecco è possibile catturare la ride carbonica e metterla da qualche parte che tecnologie abbiamo assolutamente è possibile è una tecnologia in questo momento ancora abbastanza sperimentale vediamo di che cosa è io andrei qua sopra se ci riesco a condividere nuovamente lo schermo tac tac ecco questa tecnologia è tipicamente cattura in alcuni grandi impianti impianti dove impianti o industriali tipo acciaierie tipo cementifici oppure più probabilmente le centrali elettriche dove viene bruciato carbone o gas se si continua a usare carbonio o carbone e petrolio per produrre appunto impianti dove tipo acciaierie dove è difficile trovare un'alternativa si usano idrocarburi fossili carbone petrolio e quant'altro e l'anide è che carbone che si produce dalla combustione cosa se ne fa viene catturato viene catturato in modo chimico viene separato dal flusso di uscita dei fumi viene separata la CO2 viene catturata diciamo chimicamente dopodiché viene purificata viene compressa e a questo punto una volta che è pura e compressa viene messa o dentro a dei diciamo dei gasdotti è trasferita altrove oppure viene portata con delle navi trasferita dove viene trasferita in posti dove possa essere iniettata nella crosta terrestre e in profondità in zone che siano utili per poterla catturare e tenerla giù senza rilasciarla per migliaia di anni che abbiamo visto sono proprio i tempi ciclici del carbonio per poter essere assorbito quindi l'ipotesi è la tengo giù nascosta per migliaia di anni e a questo punto l'ho tolta dalla diciamo dall'atmosfera però questa cosa qui tipicamente se mi permetti è sponsorizzata da diciamo dalle da quelli che certo chi non vuole il carbone lo bruciano lo estraggono primariamente da terra che ci guadagnano in casa nostra sono lei la Snam insomma altri sulla destra ci sono persone di Greenpeace che protestano perché perché non è detto che sia la soluzione migliore dov'è che dovrebbero andare prego va bene vai avanti dovrebbe essere inserita la 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 se Luigi faccia che ha alzato una mano non so se vogliamo le domande dopo alla fine alla fine ma poi alla fine ci siamo dimenticati siccome qui è pertinentissimo a quello che avete detto visto che parlate in due o tre posso parlare qualcuno che mi sembra una cosa intelligente quindi me la date la parola un secondo penso che dici posso parlare allora avete sentito parlo la domanda ma cerca di essere springato allora la domanda è in questo momento quella questa uscita di questi fumi è già in atto la possibilità di prendere questa co2 e di metterla nei famosi tuvi di li li qui farli eccetera eccetera oppure è un discorso avveniristico se si mette in atto questa questa politica la seconda domanda nel 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 nell'ipotesi che queste queste che hanno fatto queste proposte siano delle si sono messi una mano sulla coscienza anche se sfornano petrolio e quant'altro io gli do la buona fede ma nel qual caso la incidentabilità il il tot che va a impedire lo sforamento del fattidico 1,5% quanto quanto c'acchiappa domande due mi sembrano interessanti per poter continuare a ragionare su quello che stiamo dicendo vedete voi Marco a te allora in questo momento esco dallo sharing perché tanto ci vediamo in faccia poi ci ritorniamo ci rivediamo in faccia ecco qua ciao Luigi in questo momento questo tipo di tecnologia è una tecnologia che è ancora sperimentale cioè si sta studiando ce ne sono diversi diversi tipi diversi modelli dipende da da dove la stai da dove la vuoi applicare su quali impianti la vuoi applicare dipende da quali sono i componenti chimici che vuoi utilizzare per l'estrazione ci sono tante strade aperte non c'è una che dice bisogna fare così e la facciamo stanno ancora abbastanza studiando è una tecnologia sperimentale tant'è vero che hanno fino adesso misurando ci sono stati sul 100% delle proposte progettuali il 90% non sono state neanche realizzate quindi si sta in questo momento ancora parlando di ipotesi e dove sono stati fatti dei test molto spesso sono stati negativi sono stati negativi per diverse ragioni alcune di tipo tecnologico altre di tipo economico perché i costi erano risultanti erano molto maggiori di quelli inizialmente previsti perché per diverse ragioni non è una cosa che in questo momento è ancora gran che matura quindi siamo in una tecnologicamente parlando in una rampa di salita non siamo non è un tipo di tecnologia che è di quelle stabili comunque è una tecnologia che viene finanziata a quanto ho capito ci sono anche persone interessate come tu hai già fatto vedere assolutamente ci sono persone interessate ma fino a questo punto essendo una tecnologia sperimentale in realtà i finanziamenti per la maggior parte sono dei finanziamenti governativi quindi sono pubblici sono soldi nostri non sono le ditte stesse che dicono ok scommetto faccio l'impianto e me ne sto della cosa quindi siamo ancora all'inizio i tempi per raggiungere delle quantità significative non sono immediati anche perché questi impianti richiedono dei macchinari complessi richiedono del personale che abbia degli skill particolari voglio dire tutto quanto è fattibile le persone sono trainabili glielo insegni però ci vogliono per arrivare a avere dei volumi grossi hai bisogno di metterci un mucchio di soldi fare dei macchinari tanti lo puoi fare in tutto il mondo però uno dice ok voglio seguire questa strada perché secondo me è la migliore ok ci butti dentro soldi tempo persone devono dimostrare quanto incide incide significativamente nella loro ipotesi questa faccenda direi di parlarne poi dopo perché adesso è arrivata anche una domanda da Carlo non lo so cosa facciamo direi di fare un po' d'ordine in questa situazione appunto direi con Marco che avevamo già concordato è disponibile vedo Marco però appunto fateci finire così tutte queste parti rispondere c'è anche Carlo che ha mandato tra l'altro in chat 23 articoli che sono si vediamo dopo scusami quindi niente facciamo una cosa continuiamo la discussione dopo se possibile cerchiamo di non dimenticarci le domande visto che io direi prima stavamo parlando di cosa fare di questa CO2 dove metterla eravamo arrivati a si può fare ci sono degli impianti ci sono si possono ipotizzare degli impianti e si possono costruire come ho detto è una tecnologia ancora sperimentale quindi se uno vuole investire su queste cose lo può fare secondo me sarebbe meglio fare diversamente però ne parleremo a vedere un po' perché avevamo visto una mappa mi pareva interessante questo dimostra che comunque c'è gente che ci sta lavorando e studiando assolutamente di capire com'è la situazione quell'immagine ce la puoi far vedere l'immagine che avevo prima riguardava il ecco possiamo vedere riguardava il dove dove si pensa di poter inserire la CO2 i posti migliori secondo i geologi dove andare a mettere sotto terra la CO2 sono i salini acquiferi sono dei bacini in cui milioni di anni fa dei fiumi hanno generato degli strati di materiale uno sopra l'altro e ci sono questi strati che fino a un certo punto sono porosi poi diventano impermeabili e quindi negli strati geologici al di sotto di queste formazioni è possibile inserire della CO2 compressa in modo tale che questa CO2 resti bloccata con il cappello di questi strati impermeabili in modo tale che non risalga più in superficie per dei tempi lunghissimi questa è la teoria prima questa immagine però ci segnala che comunque studi sono stati fatti quindi immagino anche investimenti quindi il problema in qualche modo questa soluzione viene presa in considerazione quindi si spendono risorse umane intelligenze e anche risorse economiche assolutamente assolutamente tra i primi posti dove hanno e si può notare che questi siti sono sia su terraferma che anche in mare qui in questa immagine siano mostrati a seconda della loro capacità di contenimento di milioni di tonnellate di CO2 quindi guardando qui uno dice siamo tranquilli non non c'è problema la possibilità di andare a mettere sotto sotto il cappello questi questa CO2 ce l'abbiamo tranquillamente posso dove mettere la CO2 ce l'abbiamo dove mettere i residui radioattivi magari un po' più difficile ma questa potrebbe essere una soluzione però ecco tu vabbè però abbiamo già capito perché abbiamo già introdotto questo tema al momento come dire molti soldi investiti e impari di capire anche scarsi risultati sulla possibilità reale che questi questo sistema di stoccaggio di sottrazione della nitrocarbone di atmosfera possono funzionare cioè le impianti ci sono ecco puoi ricordare si possono fare ma uno secondo me dovrebbe andare anche a dire ma perché dobbiamo farlo cioè uno dice oh brucio dei carburanti fossili che accepicchia mi girano della CO2 quindi mi fanno mi portano il riscaldamento globale allora io prendo questa CO2 che ho io stesso generato e la metto via ma non si fa prima generare delle energie in un altro modo che tra l'altro costa di meno ed evitare questo passaggio che può essere oltre che costoso e anche rischioso perché intanto questa cosa qui la puoi fare soltanto in grandi impianti non lo fai certo all'uscita della marmita catalittica delle automobili non lo fai non lo attacchi alla cucina alla caldaia casalinga è una cosa che la fai solamente in grandi impianti in questi grandi impianti ti sarà difficile avere e farle funzionare energie rinnovabili sto pensando appunto in un'acceeria sto facendo un po' la parte del diavolo ma sommato come dire il problema esiste quindi non si può pensare è da capire un attimo ecco poi vediamo un attimo se se queste scuse che vengono accampate sono giustificate o meno insomma ma una delle cose è che è un è un tipo di tecnologia che consuma energia esatto quindi se tu l'attacchi a una centrale elettrica ed è sicuramente una delle cose che è possibile fare ne abbassi sensibilmente l'efficienza 10 15% non è mica poco tu continui a bruciare del diesel della benzina del gas di una centrale e gli abbassi l'efficienza di questa quantità domanda posso permettere perché tu avevi accennato all'inizio di queste questo mercato della linea carbonica sostanzialmente per cui se io ecco magari ce lo puoi spiegare un po' meglio perché penso che il problema è sempre questo cioè se io catturo la linea carbonica e quindi la sottrago l'atmosfera ci guadagni in qualche modo esistono questi meccanismi che tu sappia certo ci sono dei meccanismi che ti fanno che ti rimborsano delle cifre per per la anidia carbonica che tu hai catturato queste cifre però cresce nel tempo perché perché fanno riferimento a che cosa fanno riferimento ad un carbon budget noi continuiamo ad emettere CO2 nell'atmosfera ma non sappiamo che non dobbiamo arrivare a riempire la vasca quindi la quantità che ci resta via via nel tempo diminuisce e allora se diminuisce questa quantità aumenta il valore del danno che facciamo emettendola e quindi allora il valore del bene che ne abbiamo se noi la togliamo questa è la logica dietro la valorizzazione della CO2 non sono aggiornatissimo ma credo che il valore attuale della CO2 sia intorno alla novantina di euro a tonnellata e dovrebbe nel tempo via via crescere se io a questo punto sottraggo dall'atmosfera in qualche modo una tonnellata di carboni questi 90 euro chi mi li dà da dove vengono presi? te li dà inizialmente era una borsa europea attualmente questa cosa qui non credo che ci sia ancora ma attendere dovrebbe essere un mercato globale un mercato globale in cui viene portata virtualmente la CO2 catturata e viene rimborsata questa cosa produrre l'idea carbonica paga una tassa forse il meccanismo è quello chi produrre l'idea carbonica paga e quindi questo denaro messo da parte viene dato a chi invece questa lidea carbonica non questa carbon tax che poi è il nome in questo momento non è ancora implementata in tutto il mondo quindi in realtà mi pare di aver capito che in questo momento sia ancora su base volontaria degli stati probabilmente deve essere a partire dalla la terza COP COP3 i maggiori contributori dovrebbero essere i paesi sviluppati i paesi ricchi e però non so ancora come sia confesso di non sapere tu hai iniziato questa chiacchierata parlando appunto di una distrazione una pericolosa distrazione un po' gli argomenti lei in qualche modo già ha introdotto però penso che questa è la parte più importante di questa nostra conversazione cioè ce la puoi spiegare un po' meglio perché questa ipotesi di catturare l'idea carbonica tu la consideri una distrazione distrazione di massa possiamo anche aggiungere peraltro pericolosa è pericolosa perché sottrae sottrae delle risorse finanziarie da un lato ma non solo finanziarie anche di persone di capacità tecnologica di skill che servirebbero sarebbero da utilizzare invece da un'altra parte sarebbero da utilizzare a favore di energie rinnovabili quindi invece di costruire degli impianti ccs che costano dei soldi e richiedono personale schillato costruiamo invece degli impianti fotovoltaici costruiamo degli impianti eolici che anche loro richiedono soldi e personale schillato quindi è una è un rubarsi è un rubarsi queste risorse io schillato sto per preparato preparato scusa ogni tanto mi lascio prendere e quindi è proprio una una rincorsa ad usare queste risorse preziose soldi e personale e secondo me secondo molti altri conviene utilizzare invece andare a cercare di non decarbonizzare la generazione dell'energia ma generarla direttamente con metodologie che siano intrinsecamente che non bruciano del che non bruciano dell'efficienza energetica comunque perché se ne parla meno ma è una voce che erroneamente si parla di decrescita più o meno felice in realtà io penso che sia noi dobbiamo a livello mondiale arrivare a un'efficienza quindi produrre i beni utili quelli che servono veramente con molta meno energia e con molto meno spreco questo è l'altra come dire l'altra parte che secondo me deve essere sviluppata e qui immagino ne parleremo la domanda diciamo stiamo un pochettino deviando però il discorso è quando si parla di sostenibilità sostenibilità è una parola che secondo me è usata per la maggior parte a sproposito sostenibile significa sostenibile significa che è una cosa che puoi continuare a fare indefinitamente questo significa che se sono cose che tu vai a consumare significa che non ne puoi consumare di più di quanto il mondo le rigeneri e se quando invece per quanto si parla di di rifiuti o cose che tu stai sono l'output dell'uscita della tua della tua produzione non ne puoi produrre di più di quanti il mondo sia in grado di rimettere in circolo questo è significato importante la terminologia ripeto anche a me non piace questa sostenibilità che viene anche abusata se non vado errato in Francia si usa un altro termine adesso non la so dire in francese sicuro però il termine è durabile cioè come dire delle scelte che permettono di continuare nel tempo su una base secondo me di millenni un giusto equilibrio con le risorse uno sviluppo quindi non anche più la crescita uno sviluppo dell'umanità che duri nel tempo e questo richiede ripeto duri nel tempo per millenni come peraltro è la nostra storia precedente noi abbiamo una storia che possiamo risalire una storia scritta conosciuta a una decina di migliaia di anni fatto sommato dobbiamo poterci garantire almeno una prospettiva di questo tipo è vero però diciamo il fatto è che un po' abusando della parola sostenibilità e non conosco il francese ma mi piace quella che ha detto però il termine è questo comunque nel termine inglese era non credo coniato ma sicuramente spiegato molto bene ai tempi in cui è uscito il rapporto al Club di Roma fatto dall'MIT Donella Meadows che era la vera anima del di quel rapporto l'aveva esplicitato molto chiaramente nei termini che stavo dicendo io quindi andando a vedere per quanto uno possa l'interazione con la natura e che questa interazione debba poter continuare in modo indefinito nel tempo senza limiti bene senti intanto ultima domanda perché rispetto a questo quadro che anche tu hai in qualche modo prospettato ce la faremo come umanità avere davanti a garantire appunto ai nostri nipoti post nipoti un minimo di prospettiva che idea hai qual è la tua percezione poi passiamo alle domande ma la domanda è importante la risposta non è così chi è il futuro non è così chiaro come mi diceva anche Gubardi una settimana fa in realtà richiederebbe una sono degli sforzi notevoli richiede che ci sia una concertazione che in questo momento non si vede richiede che richiede che tante persone tanti governi cooperino per raggiungere questo stesso fine richiede risorse come dicevo non soltanto soldi finanza ma anche mezzi anche personale e citando un un articolo di Ugo Bardi di diversi anni fa 4 5 anni fa Bardis Guridis quindi se volete andarvelo a cercare intitolato The Sower's Way il modo del seminatore la ragione la modalità per riuscire a diventare sostenibili è quella questo qui era focalizzato sul mondo dell'energia e della generazione dell'energia è quello di mettere da parte anno su anno delle risorse come fa un seminatore che tiene parte del grano per la prossima seminagione e investe anno su anno per creare un qualche cosa di alternativo quindi creare una rete e un mondo rinnovabile a partire da un mondo invece fossile che via via deve essere impoverito questo sarebbe il modo per costruire la cosa però richiede delle grosse un trasferimento di risorse continuo da il mondo fossile al mondo rinnovabile in questo momento non lo stiamo facendo stiamo continuando a sovvenzionare le fonti fossili questi sono dei brutti messaggi quindi mi chiedi sei positivo non lo so perché onestamente non so come va a finire se andiamo continuiamo così non ci fermiamo in un mondo a più 2 gradi centigradi andiamo dritti a non fare niente andiamo in un mondo a più 3,5 centigradi quando c'è un mondo del genere ci sono tanti tipping point naturali che rischiano di collassare abbiamo dei rischi come vabbè non voglio sembrare troppo capace quindi non dirò nient'altro però non sono molto positivo bene sì tutto sommato condivido questa tua posizione anche se però mi permetto anche di dire che tutto sommato come dire anche nel mio piccolo panorama io ho cominciato a occuparmi di queste cose negli anni 70 eravamo pochissimi a parlare di energie rinnovabili energie solari l'abbiamo però anche fatto e l'energia eolica per esempio sicuramente sono stati fatti molti passi avanti e io in questo senso vabbè se tu vorrei avvenuto parere perché secondo me io sono l'Europa potrebbe essere come dire il punto di riferimento per questa svolta anche culturale poi vabbè la guerra in Ucraina ha sconvolto tutto però il piano Next Generation EU e altre cose e comunque la volontà a livello europeo di portare avanti un nuovo modello di sviluppo è una realtà possibile io su quello spero anche se indubbiamente abbiamo pochissimo tempo davanti e come dire lo spirito bellico di questi di questi giorni di queste ore mi fa invece mi rende molto più dubitoso che ce la faremo se io andiamo avanti con il piano che non venga ammazzato il Fit for 55 visto che hai citato l'Europa cioè riuscire a diminuire del 55% le emissioni di CO2 entro 2030 se riusciamo ad andare avanti e lo centriamo sicuramente possiamo essere il faro per intanto le altre nazioni sviluppate e il mondo però ci riusciamo? Non so va bene senti ci sono un po' di domande ecco se tu se ci vengono passate le domande le vediamo un attimo qui se si può rispondere abbiamo già abbiamo delle delle richieste direi che più che domande sono state fatte delle osservazioni parecchie da da Carlo per cui direi direttamente di fare il suo intervento e poi torniamo a Luigi che era rimasto con la parola tagliata in bocca vediamo Carlo ok non sono più che domande appunto visto che Marco comunque è esperto e come diceva anche lui questi impianti di diciamo come si dice di stoccaggio di CO2 sono carissimi infatti nell'università di Zurigo il Politecnico ne ha installati alcuni in Islanda dove comunque le energie rinnovabili sono diciamo hanno un surplus di produzione quindi ha impatto quasi zero e quindi la cosa può anche avere valore però come diceva Marco è inutile bisogna investire su energie rinnovabili come il fotovoltaico eccetera eccetera comunque ho giocato alcuni link ci sono questi impianti in Finlandia e anche qualcuno in Svizzera appunto del Politecnico di Zurigo grazie Carlo quello che volevo solo dirti però appunto sono costosissimi e non hanno senso come diceva Marco se vai appunto a prendere la CO2 e la città di carbone perché comunque consumi energia e più ne produci tanto CO2 col carbone è una cosa veramente un controsenso quindi investire sulle rinnovabili e basta era solo per no appunto un po' di dati vi ho mandato anche un video del TG niente di particolare però una cosa appunto che volevo dirvi soltanto era questo che sul nostro tetto di casa produciamo quattro volte di più di quel che consumiamo con pochi pannelli fotovoltaici quindi la possibilità c'è solo una questione politica è di diciamo sì è una decisione politica alla fine di andare a sostenere questo tipo di produzione di energia elettrica niente comunque grazie Marco interessantissimo io direi che io non devo dire più niente era solo questo che volevo dire grazie mille altri interventi allora diamo la parola a Luigi che era rimasto praticamente con una parte della domanda in va benissimo va benissimo congelata ci mancherebbe altro io spero che facciamo queste cose per riuscire a tirare fuori qualche ragno dal buco che le faccia prima le considerazioni dopo va sempre bene allora prima questione la questione aiutatemi a capire tutte le ceminiere che ancora ci sono in giro ma anche le navi in porto non dovrebbero avere dei filtri che se non azzerano limitano fortemente queste produzioni in questione esistono già delle normative in questo senso perché non ho capito se praticamente non si fa assolutamente niente anche per limitare questo questo dato in questo momento siamo centrati su carbone pardon su petrolio e gas io simpatizzo per il gas ma soprattutto simpatizzo per il biogas quindi poi riprenderà Federico Valerio questa vena che secondo me per noi è fondamentale di portarla avanti ecco ma c'è qualcuno che mi può dare una risposta se quelle ceminiere quella roba lì ce l'hanno già e ci sono normative che impongono già oggi questa questa disponibile questa questo filtraggio a questa domanda posso posso rispondere Luigi allora intanto da un punto di vista della CO2 qualsiasi tipo di sistema che noi vediamo descritto per gestione fuminavi non fa nulla dal punto di vista della CO2 quindi non non ti abbatte nessuna CO2 quello che possono eventualmente che potrebbero eventualmente fare avrebbero da fare delle cose con il particolato ma in realtà per quello che poi in realtà qui l'esperto è Enzo quello che viene fatto nel porto non viene fatto nessun tipo di opera di filtraggio quindi quello che esce fuori non per niente il trasporto marittimo è uno dei settori definito come hard to abate difficili da abbassare come emissioni di CO2 inoltre quello che esce da diciamo dalle ciminiere delle navi è così è così brutto da vedere anche perché contiene un mucchio di particolato sono il PM2E5 il PM10 quindi sono nanoparticelle che ti entrano nei polmoni e dipendono primariamente da due cose uno come sono regolati i motori e l'altro il tipo di carburante che ci mettono in questo momento ci mettono del carburante che perché da un punto di vista internazionale le regolamentazioni ancora lo consentono è cento cento volte sì cento volte più sporco di quello che è utilizzato dalle automobili attendere dovrebbero arrivare delle regolamentazioni internazionali dell'organizzazione dei trasporti marittimi ITO se non sbaglio che dovrebbero uniformare il diesel marittimo al diesel automobilistico ma ne siamo ancora distanti e comunque questo non fa niente dal punto di vista della CO2 ecco allora siccome l'economia le palanche sono quelle che poi qualcuno dice che è la cosa più importante del mondo è al suo peso io in attesa di altre cose potrei cominciare a dire che dobbiamo far diventare talmente gravoso agli imprenditori come si chiamano armatori gli armatori grazie aiutatemi con le parole e quindi andare a chi appare questa legge qua questo 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 che arrivi dall'ONU che arrivi dall'Europa eccetera eccetera e dire a qualche partito in Parlamento di fare una legge italiana perché noi dobbiamo riuscire con i nostri rambicamenti intellettuali scientifici poi riuscire a fare una proposta che abbia una sua incisività scusami se ti blocco subito ma da un punto di vista internazionale queste regolamentazioni sono fatte da un ente internazionale quindi che ha dei rapporti con l'ONU ma molto laschi e non hanno intenzione di seguire il tuo ragionamento cioè hanno capito il problema che è un problema ma hanno in mente dei tempi lunghi da un punto di vista italiano se tu vai a parlare dei politici di fare delle cose che limitano l'accesso di navi per esempio perché troppo emittenti ai porti italiani ti dicono ti dicono perché lo dicono già adesso per il porto di Genova con riguardo ad altri porti viciniori non possiamo fare niente perché se no i traffici vanno altrove e noi ci perdiamo un mucchio di soldi quindi il discorso di soldi quello che citavo all'inizio vince ma siccome tra 15-20 giorni ci sono le europee voglio dire l'Europa da questo punto di vista che ogni tanto sembra avanzata poi fanno una marcia indietro la von der Leyen diventa a un certo momento retrograde conservatrice e ciocca ma voglio dire qualcosa di buono sulla questione ecologica l'Europa l'ha fatta su questa cosa qua non potremmo insistere e fare una proposta in questo senso il Parlamento Europeo è lì si tratta di di scriverci a chi qualcuno io spero che qualcuno di Europa Verde sinistra italiana vada in Parlamento e dobbiamo fare in modo che questi qui abbiano qualcosa da fare intelligente questa qua mi sembra una cosa intelligente da fare questo è per limitare i danni questo è per limitare i danni per qua allora ho capito non c'è il criterio è l'utile va al privato e le spese se le deve accolare il pubblico le panchine le panchine diciamo elettriche pare che ce le dobbiamo fare a spese nostre pare in modo che questi armatori continuino ad andare avanti con le loro puzzolenti e disgraziate emissioni quindi questa è la prima parte l'altra poi ricordati che deve parlare anche Pinuccia che ha alzato la mano vai tranquillo io l'ho già vista la Pinuccia so sempre che poi dice delle cose interessanti importanti eccetera eccetera però fatemi finire i pensierini cacchio certamente il pensierino da quello che ho capito invece su questa partita io ho decodificato ho interpretato che gli piacerebbe tanto alle industrie petrolifere di continuare il ciclo di utili che sono tutti multinazionali eccetera eccetera per cui il padrone diciamo quello che conduce la danza è l'utile adesso facciamo questa roba qui così continuiamo il ciclo continuiamo a fare petrolio eccetera eccetera poi ci facciamo questa della cattura della CO2 e facciamo altri impianti facciamo tutto noi facciamo tutto noi e un circolo che finisce invece che una economia diciamo circolare virtuosa come piace a Pinuccia e anche a me continuiamo questo perverso il serpente che si mangia la coda per cui io da quello che ho capito è una fregatura i tempi poi ho sentito che non si non si sa che tempi siano mi rendi felice perché era quello che avrei voluto passare come messaggio di ipersintesi di questo incontro cioè quando vi vengono a raccontare che il CCS è la soluzione per i nostri problemi di emissione di CO2 iniziare ad essere sospettosi bravo Luigi ma io direi che l'interpretazione mi pare di aver messo su sull'ettino psicoanalitico Lenin e praticamente quello che esce fuori è esattamente questo si capisce fino in fondo per cui noi dovremmo semplicemente insistere che vogliamo un altro sbocco e la nostra il nostro filone principale dei pannelli solari eccetera devono in qualche modo andare avanti come treni spero che insisteremo e faremo di tutto e di più per portare avanti questo discorso una nota finale ma proprio rapida c'è il frattin che è venuto qua a Genova a parlare bene del nucleare io vi vi raccomando vi sollecito a sparare contro il frattin sul nucleare perché questa lì è una cosa che ti vengono a raccontare che dovrebbero secondo loro non è non è come si chiama che è inerrorinnovabili hanno già detto in 10 o 20 o 30 che non è rinnovabile perché l'uranio voglio dire non è rinnovabile e poi lasciamo perdere tutto il resto del discorso cedo la parola alla Pinuccia e scusate la mia lunghezza grazie Luigi parola a Pinuccia allora due domande una te l'ho fatta anche in chat vabbè ho visto il prezzo di attuale 70,51 euro e volevo sapere appunto rispetto al meccanismo dell'emission trading esiste un mercato anche cioè come funziona la cattura di CO2 in termini di mercato non lo so proprio quindi ero incuriosita anche perché appunto l'altra domanda era e sono tre poi c'è la terza l'altra domanda è quanto ma quanto potrebbe incidere rispetto diciamo appunto alle emissioni di CO2 degli impianti industriali di uno stato la cattura della CO2 in questo modo secondo me sarebbe insignificante cioè non lo so rispetto alla produzione e al calcolo della produzione di ogni paese e vengo a Genova nel senso che col PAES che avevamo indicato che si doveva ridurre di 600 mila tonnellate all'anno e domando se qualcuno sta facendo il monitoraggio e se il PAES sta quanta CO2 sta facendo risparmiare forse sono dati che sa la Fabianelli o l'Agenzia regionale per l'energia non so come si chiama adesso dovrebbe avere il monitoraggio di quanto le azioni del PAES che stanno contribuendo o se non stanno contribuendo o se nessuno le sta facendo eccetera e l'altro dato che per me è sempre vitale è che ognuno di noi produce diciamo che il calcolo personale della produzione di CO2 è di 7,1 tonnellate abitante anno cioè se noi almeno dimezzassimo le nostre e facciamo il conto della popolazione quindi l'educazione rispetto a questo tema secondo me è molto importante potremmo dare un contributo perché 7 tonnellate all'anno sono tante quindi riducendo l'uso delle fonti fossili muovendosi meno in macchina insomma facendo tutta una serie di operazioni possiamo anche noi arrivare a provare a ridurre la produzione cioè quando stampiamo il biglietto in cui c'è scritto non so se c'è ancora scritto nei biglietti quanto a CO2 che adesso sono tutti elettronici prima c'era scritto quanto a CO2 risparmi però di fatto credo che anche a livello individuale possa essere un impegno non indifferente al di là cioè oltre proprio questi progetti assurdi che anche io trovo letteralmente assurdi di cattura allora provo a dirti qualche cosa la prima cosa è negativa nel senso che in realtà non conosco bene il mercato degli ETS e quindi su questo sorry non ti non ti so dare una risposta mi spiace più l'uccia ti so dare invece una risposta vediamo se riesco a scerare su dov'è ecco qua non so si riesce a vedere sì è un po' più sì sì adesso lo voglio trovo aspetta se riesco se riesci a zoomare qualcosa meglio sì guarda oppure uno ce la descrivi comunque sì sì ma era semplicemente per dire che l'aggiornamento del PASC secondo me colpevolmente non da cos'è scusa tanto perché io voi sinceramente non conosco il 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 modo diverso alla francese dire SECAP è il patto dei sindaci è l'impegno a ridurre la CO2 da parte di un in questo caso la città metropolitana sì piano per l'energia sostenibile per il clima in italiano sarebbe no perfetto piano per l'energia sostenibile per il clima che peraltro ci dovrebbe essere anche a livello nazionale il nostro come si chiama non lo so non ricordo più quello genovese fammi vedere ecco qua siamo arrivati nel 2002 ad 1,593 quindi 6 1,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti è il 2022 non il 2002 scusa hai ragione 2022 l'obiettivo che c'è per il 2030 è quello di arrivare a 1,269 quindi 1,27 siamo piuttosto distanti siamo ora qui non ce l'ho mi ero fatto mi spiace non l'ho messo in questo in questo spreadsheet perché mi servia per altre cose la riduzione che c'è stata è di 539 mila tonnellate la riduzione effettiva è di 539 mila esatto e al 2030 dovrebbe diventare di 863 mila questo è a partire da 2 milioni e 100 qualcosa cito a memoria perché non me lo ricordo più non ce l'ho scritto qua nello sheet che era quello di considerato ripartenza del 2005 quindi siamo in ritardo come città metropolitana se era questa la tua domanda scusa ma se era questa ma è annuale o è quello complessivo questo è questo è l'annuale è l'annuale è l'annuale quindi ogni anno noi si riduce di 539 mila tonnellate che erano un po' le previsioni che avevamo fatto allora poi nel 2012 perché noi facevamo 600 mila tonnellate di riduzione quindi evidentemente era una previsione diciamo attendibile concreta abbastanza attendibile sì in realtà qui siamo a 540 mila è un po' più basso di 600 mila e poi sai allora l'obiettivo era la riduzione del 20% adesso abbiamo degli obiettivi un po' più ambiziosi assolutamente perché il patto dei sindaci era partito con il 20% adesso 20-20-20 esatto era al 40% ultimamente era stato portato esatto e niente beh questo è già un dato direi che sinceramente se questi dati come immagino sono attendibili sono veri e sarebbe già una bella è un buon risultato è un passo avanti è positivo che si muova è negativo che non abbia la velocità che richiediamo se uno ha queste cifre ci mette sull'altro piatto della bilancia stiamo parlando di Genova le emissioni che ci saranno di diversi milioni di tonnellate per il cemento e l'acciaio della diga della gronda del tunnel di sky metro e di tutte queste belle cose queste qui sono le riduzioni però se le annullano tranquillamente perché se cioè direi che è chiaro no? Scusa Marco ma nel PAE allora poi non lo so se è cambiato ma non c'era però il porto era fuori essendo essendo fuori dalla adesso però se tu mi dici che i dati sono della città metropolitana ma qui mancherebbero per le emissioni portuali hai ragione non sono conteggiate le emissioni portuali difatti nei vari questi settori non esiste il porto però voglio dire come mai il porto quando si tratta di togliermi il mare c'è e quando si tratta di di buttare non lo considero quando si tratta di della carbonica era la configurazione amministrativa perché non era possibile perché era un'autorità a parte quindi cioè essendo un impegno che tu assumi con una delibera amministrativa la puoi assumere per il territorio di cui hai competenza non per quello di cui non hai competenza l'autorità portuale so che aveva fatto un piano però l'autorità portuale anche per le fonti rinnovabili infatti tra l'altro da da uno che era era famoso a Genova adesso non mi ricordo più il nome ma era uno anche di legambiente insomma mi sembra una cosa del genere che aveva fatto il piano per il porto però adesso non me lo ricordo però però anche lì bisogna vedere poi se effettivamente l'impegno di riduzione che loro avevano preso è stato poi realizzato perché qui abbiamo dei dati ma là non lo so dal porto non ne vedo arrivare Marco questo mi sembra un aggravante questo mi sembra un aggravante in questa nota bisogna dire che la separatezza l'hai detta tu forte e chiaro quando si tratta di diciamo di avere gli aspetti negativi non se ne parla e quando il signor sindaco pensa di avere delle utilità dal porto allora ci mette il becco non so chi sia ancora il commissario di che cosa comunque il fatto sta concludendo noi se riusciamo a fare questo documentino dobbiamo dire che prima di tutto che il comune di Genova si deve occupare o se non può farlo direttamente deve coordinare un attimino le azioni con l'autorità portuale i due i due piani ci sono si 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 compenetrano riusciamo a far sì che almeno una denuncia in questo senso va bene va bene rispondendo all'altra domanda invece in cui dicevi ma quanto Cuba economicamente la riduzione di di CO2 Pinuccia sto dicendo la seconda domanda o terza che avevi fatto il PNIEC cioè il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima prevede tramite tecnologie CCS di catturare tra 20 e 40 milioni di tonnellate di CO2 entro 2050 quindi queste vanno in qualche modo valutate economicamente se oggi dici che è 70 euro tonnellata questo però nel tempo deve salire perché nel tempo più facilmente arriverà a 100 e anche di più quindi si tratta di dare una valutazione di questi 20-40 milioni di tonnellate entro 2050 quindi se uno facesse 20 milioni a 70 quindi il numero minore è 20 milioni per 70 euro cioè quello di oggi significa 22 miliardi no un miliardo e 4 un miliardo e 4 un miliardo e 400 milioni e questo è il numero più basso se invece vai verso i 40 milioni di tonnellate e una cifra a tonnellata maggiore ovviamente sali e questi sarebbero di fatto fondi che andrebbero in mano dallo Stato se non capisco a coloro che effettuano appunto la cattura di fatto perché verrebbe pagata la CO2 ovviamente che viene ridotta in base all'emission trading esatto ecco perché spingono sono altre domande io volevo allora visto che non ci sono domande nel frattempo magari elaborate comunque alle 7 e mezza chiudiamo poi diventa per me permane quel discorso che ho fatto di mettere in moto qualcuno in comune qualche consigliere su su questa questione qua tanto che non ci sia una scissione tra il comune e il cap e si integra un attimino e quelle questione che abbiamo sollevato noi farle sapere ma per il porto c'è il DEAS che è un documento che è più o meno equivalente al PNEAC a livello locale che tiene presente tra l'altro credo che sia consultabile anche sul sito in ogni caso il precedente ce l'ho se qualcuno serve tornando un attimo alla CCS volevo segnalare questo che negli anni 90 a livello di conferenza se ne parlava già non è che sia una novità anche allora hanno fatto facevano degli studi tra l'altro un mio amico ha fatto uno studio per la Shell vedi che è ovvio che finanzia queste cose qui e niente comunque si è trascinata a lungo questo discorso Ansaldo ha fatto Enel hanno fatto degli studi perché volevano valutare se era meglio la post combustione o insomma tutte le tecnologie chiaramente costa dal punto di vista realizzativo come già detto Marco costa anche in termini e non poco in termini di energia non è che quindi il costo è diciamo doppio da un certo punto di vista e una cosa ad esempio che era venuta fuori a quei tempi che sembrava essere un limite nel per quanto riguardava la diffusione nei diciamo in certi paesi europei ad esempio l'Italia era anche che il trasporto lunga distanza deve essere fatto con la CO2 in pressione e esiste il pericolo di rotture che facessero metessero anche dei morti perché tant'è vero che il problema era minimizzato negli Stati Uniti proprio perché ci sono delle zone estremamente desertiche quindi poco abitate diciamo quantomeno metri in Italia la densità è piuttosto elevata per cui la tendenza è quella di catturarla abbastanza vicino dove si produce più che trasportarla che invece è una delle cose ora io non so negli impianti che ha citato Carlo quelli finlandesi come sia la questione comunque anche anche il trasporto non è così non è così indolore perché avevano proprio fatto delle simulazioni prevedendo una mortalità ecco un numero di morti in caso di incidenti grave se mi permetti Enzo negli Stati Uniti c'è stato un caso in cui una una condotta si è fessurata è uscita fuori anidride carbonica e è andata veramente bene perché hanno portato 45 persone in ospedale e se la sono cavata intossicati da CO2 da questa da quella cosa hanno fatto degli studi quindi stiamo parlando di parecchi anni fa e hanno capito guarda caso che devono mettere all'interno delle condotte degli odoranti particolari tipo il gas di casa perché queste persone non si erano accorte di niente ed erano intossicate da CO2 sarebbero crepate se non se non casualmente un poliziotto cioè c'è una storia dietro però il rischio reale è che in posti come l'Italia che sono densamente popolati è difficile riuscire a far passare le condotte in posti dove questo rischio di fessurare le condutture e avere delle perdite sia veramente basso grazie allora chiudiamo c'è qualche qualche domanda io volevo ringraziare Marco perché è stato molto interessante io vi devo anche io vi devo lasciare adesso ma è stato veramente interessante quindi non appena abbiamo la videoregistrazione insomma è importante diffonderla quanto più possibile l'argomento non è attanagliante me ne rendo conto spero che non vi sia stato è molto importante è molto importante e anche poco conosciuto nei dettagli come l'hai spiegato insomma grazie a voi allora io Marco è fondamentale che abbiamo capito che questa roba qua è una strozzata avete pazienza in scienza e coscienza a sintesi è bene perché uno magari si pensa dice ma si può fare adesso abbiamo capito che lì voglio dire quelli lì vogliono chiudere il cerchio loro ma è tutto invece che virtuoso dell'eterio va bene non ho detto una piccola cosa che il 75 il 70% della CO2 catturata dagli impianti petroliferi viene ributtata non negli acquiferi di cui parlavamo prima per stare lì dei millenni viene ributtata invece nei giacimenti in via di esaurimento per poter estrarre ancora petrolio ancora gas le ultime stille che altrimenti resterebbero sottoterra questo è oltre il 70% mi pare il 75% attualmente viene utilizzato in quel modo quindi da un lato ti fai pagare dall'altro ti prendi i soldi e beh questo perfetto allora secondo me c'è ancora qualche minuto io oltre a quello che ha detto Pinuccia di fare in modo che questo sia tesaurizzato e valorizzato due spot due quella 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 che sale su fino a è impressionante non potremmo fare due o tre di queste in modo tale che si possono poi mandare in giro in tutte le nostre possibili chat whatsapp e fare in modo di far capire che non stiamo vaneggiando qui quelle belle cose che rossi bianchi quella roba lì quelle due quelle due lì sono secondo me fanno capire più di tutto un lungo discorso quindi troviamo il modo di mandarlo in giro e insistere che più più gente lo mandiamo ai consiglieri comunali lo mandiamo vediamo a regionali scusa Luigi guarda che quello è chiamato confidenzialmente ok stick è uno delle cose su cui gli scienziati battono di più e la gente se ne frega ma magari i nostri consiglieri comunali i nostri diamo le informazioni forse non sono convinti quanto siamo noi possiamo travasare un po' di sapere nella loro testa ragazzi io faccio delle imposte poi se non sono accettate pazienza ci teniamo il nostro tesoretto da qualche parte nel nostro ecco istituto e ce lo lasciamo lì però voglio dire l'importante è che sia esteso il più possibile e io individuo in queste due cose che ti ho detto fondamentali perché si capisce la prima se possiamo estrapolarli e fare due commenti e poi mandarlo in giro boom 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 secondo me abbiamo fatto un bel lavoro mi taccio andiamo allora alla conclusione prima di diciamo di concludere direi ringrazierei Marco Lobardi per la dotta presentazione che ci ha fatto probabilmente sarà molto utile utilizzarla anche nelle scuole perché è un problema che è poco noto ecco e oltretutto è molto sudoro per cui come diceva Marco ringraziamo Federico per aver fatto una bella scaletta di domande ovviamente Cristofer e tutti i partecipanti e prima di salutare vorrei ricordare che il 22 ci sarà la terza puntata di questa volta di Bardi su relativo al film di Nuclear Now direi che valga la spesa per chi non l'ha viste di guardarsi le due precedenti puntate e anche il film in modo da capire pienamente quello che diciamo il significato di queste presentazioni che tra l'altro sono state condotte da Federico Valerio come al solito e quindi direi che è una buona base per avvalorare quello che ha detto Luigi ovviamente in modo ultrascientifico e poi ricordiamo la la conversazione del 29 che è un po' la prosecuzione di questa a cura però di Celi e credo che si intitoli scenari o qualcosa del genere rinnovabili quindi perfettamente in tema non so se Federico c'è il link c'è il link degli eventi c'è il link negli eventi sì sempre sempre grazie Christopher non ci abbandona mai eh quella è rassicurante rassicurante Federico se vuoi chiudere la chiusura abbiamo anche questa conversazione così un po' libera al final abbiamo anche stiamo preparando la newsletter dove questi appuntamenti del prossimo mese vi verranno comunicati in ampio anticipo quindi io ringrazio di nuovo tutti quanti chi ci ha seguito chi ci seguirà e appunto rimando all'appuntamento che abbiamo col 29 per in qualche modo chiudere questo argomento e vedere se è possibile se non riusciremo come è probabile a catturare l'anidia carbonica se riusciremo a produrre decisamente meno utilizzando soltanto fonti energie rinnovabili la grande sfida che l'umanità si sta ponendo e ci auguriamo che possano una sfida che possa essere affrontata e risolta grazie di nuovo a tutti in particolare a Lorenzo e alla prossima Buona serata Buona serata Buona serata